E' un po' di novi e la regina, la mamma donina, la vogliamo sì. E' un po' di novi e la regina, la mamma donina, la vogliamo sì. Il concerto, il concerto per prepararci a questa festa, la processione, ci hanno preparato il concerto, ci hanno donato, anzi, il concerto per poter meglio prepararci a questa festa. Ringraziamo ogni singolo membro della PAN, tutti, 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 perché ci hanno aiutato a pregare questa sera. Bravi! Grazie a tutti. Il ditino, il ditino, il ditino, si pogge nella pianta della mano e con gli acqua di tappi e ginelli. Pieginelli, pieginelli, pieginelli. Pieginelli, pieginelli, pieginelli. Pieginelli di portatore e delle loro famiglia e questa, ma non la sento, la pioggia non la sento, più forte, più forte. La pioggia è ogniジelo. e poi questa pioggia si fa più forte con due dita si sente di più questa pioggia che basse nel cuore basse nel cuore e questi generosi da ragazzi e poi questa pioggia ha una benedizione e poi non si fa più forte quindi con chi diventa più forte questa pioggia è insistente e fatto, chi dice a domenica, in questa vista forse viene a passare va più forte e poi con quattro dita sono ancora più forte e si dice a domenica, bravo la madonna, la madonna la madonna, la madonna a tutti ci ama, ci ama grazie a tutti grazie a tutti Maria, la nostra madre, la madre di tutti noi, la madre di Gesù e la madre della Dio, Maria, noi ci confermiamo a sé. Grazie a tutti, al figlio di Gesù. Applaudiamo a Maria! Applaudiamo a Maria! Applaudiamo a Maria! Viva Maria! Applaudiamo a Maria! Applaudiamo a Maria! Grazie Maria che ci sei! Grazie che ci sei! Buonanotte a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.